Buongiorno, il locatore dell'appartamento in cui vivo non ha registrato il contratto all'Agenzia delle Entrate. Ora, per motivi personali, mi ha detto che ha bisogno dell'appartamento. Premetto che il contratto che abbiamo firmato prevedeva un 4 più 4 che pago l'affitto tramite bonifico con causale affitto e per prendere la residenza mi ha sottoscritto un modulo di cessione di fabbricato. Cosa posso fare per arrivare almeno alla scadenza del contratto, sia 4 anni? Grazie. Grazie a lei per la domanda, allora il contratto non registrato è nullo, ovvero è come se non fosse mai esistito. Quindi né il locatore né il conduttore hanno garanzie. Chi ha più da perdere però è il locatore in quanto il conduttore potrebbe pretendere la restituzione di tutti i canoni versati, potrebbe smettere di pagare e anche denunciare il locatore all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. È l'unica cosa che il locatore potrebbe fare per rientrare in possesso del proprio immobile e avviare una causa per occupazione senza titolo, che nella media si conclude in due o tre anni. Detto questo, la responsabilità della registrazione del contratto è anche del conduttore, quindi se lei non vuole mettere in seri guai il locatore può benissimo procedere alla registrazione tardiva del contratto pagando le dovute sanzioni. Una volta che il contratto è registrato, il locatore può recedere anticipatamente alla fine del quarto anno solo per i sette motivi previsti dalla legge 431 del 98, ad esempio se deve vendere l'immobile e non ne ha altri oppure se deve dare l'immobile al coniuge, a un figlio eccetera. Concludo dicendo che la mancata registrazione dei contratti di locazione è una follia che ancora troppi proprietari continuano a fare e sinceramente non capisco il perché. Come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi alla discussione. Alla prossima!